Ciao a tutti! Benvenuti su questo canale! Cosa faremo insieme oggi? I cupcake con il preparato alla vaniglia e il cioccolato! Cosa occorre? Un uovo, 250 ml di latte, 120 grammi di burro. Andiamo a vedere cosa c'è dentro la scatola! La glassa, il preparato da aggiungere agli ingredienti, i pirottini, le codezze di cioccolato e la sac à poche. I 250 ml di latte servono per la glassa. A parte adesso andiamo a frullare il burro, 5 cucchiai di latte, un uovo e il preparato della busta. Procediamo! Ecco come deve essere l'impasto! Disponiamo i pirottini sulla teglia. Ecco fatto! Mettiamo il composto dentro i pirottini. Mettiamo l'imporno per 16-18 minuti a 180 gradi. A dopo! Adesso andiamo a montare la glassa. Mettiamo il preparato della glassa più 250 ml di latte. Un minuto a velocità media col frustino e altri due minuti a velocità massima. Copriamola e lasciamola raffreddare in frigo almeno un'ora. Eccoli pronti! Quando si saranno raffreddati metteremo la glassa. Andiamo a decorare i muffin con la glassa dentro i sac à poche. Decoriamo con le codette a forma di cuore al cioccolato! Ed ecco il risultato finale! Buonissimi! Spero che questo video vi sia piaciuto. Se non siete iscritti, iscrivetevi a questo canale e vi aspetto ogni settimana per nuovi video. Ciao!